Ciao a tutti, oggi volevo un attimo parlarvi di cibo. Mi piacciono diversi tipi di cibo, cinese, indiano, italiano, ma il mio cibo preferito è il hamburger. L'osso è molto mal sano, ma il gusto è buono. Mi piace anche la bestecca con patatine fritte e insalata. Mi piace da mangiare di schnitzu di polo. Questo è quello che di solito mangio ogni giorno. Per la mia colazione, mangio una ciotola di cereali e un panino di tacchino e formaggio. Di solito faccio la colazione fra sei ore fino alle sei e mezzo. Cerco nove meno un quarto, bevo una lattina di caffè. Qualche volta mangio un biscotto con il caffè. Alla mezzagiorno faccio il pranzo. Per pranzo mangio diversi tipi di cose. Oggi ho mangiato risso con pesce. La verdura che ho mangiato erano la carota e il piselli. Dopo il pranzo mi piace mangiare la frutta. Preferisco mangiare l'uova. Ma qualche volta mangio altre frutta. E poi, di solito bevo la mia seconda tattina di caffè. Forse, forse cerca all'una o alle due o tre ore. Per cena, la mia elfa cucina sempre. Le cucina un sacco di cose diverse. Il cibo filippino, il cibo italiano, il cibo messicano, il cibo cinese. Lei è una brava cuoca. Allora, baby. E i miei figli di solito mangiano alle cinque ore. Mio figlio piace mangiare il riso di pollo. Adesso ho cominciato a mangiare la carota, il grano e il cetriolo. Mia figlia anche io mangia il riso di pollo. Ma lei è felice di provare cose diverse. Purtroppo, come la maggior parte dei bambini, loro piacciono cose malsoni. Per esempio, durante la Pasqua, mangiaranno un sacco di cioccolato. Per spuntino, mangiano la frutta o le patatine. Ok? Basta. Ciao, ciao.